Simone Colardo, portiere dello Spinete, seconda sconfitta di fila, arrivata con un altro avversario di alta classifica. Questa volta è stata una gara equilibrata, peccato per lo spazio che avete concesso ad inizio secondo tempo, per una ripartenza che poi vi è costata fatale. Sì, seconda sconfitta, però secondo me sono due partite completamente diverse. A Montenero veramente la palla non l'abbiamo mai beccata. Invece in fase difensiva abbiamo fatto una gran bella partita. È vero che difendere su questo campo è diverso, è più facile difendere su questo campo in confronto a un sintetico. Però secondo me abbiamo fatto una grande partita. Poi l'unica incertezza difensiva, l'unica ripartenza, neanche un'incertezza. Sappiamo che loro hanno giocatori che non ti perdonano. Sì, grande prova sul piano dell'attenzione. L'avete preso quasi uomo a uomo in difesa, una grande prova di Salvatore, così come anche quella di Pasqualone, sempre puntuale. Sì, Pasqualone e Salvatore hanno vinto tutti gli uno contro uno, veramente, con Ricci e Candemo, che comunque è gente che ha fatto qualche gol in carriera. Ma anche Terzini, secondo me, abbiamo girato bene. Il centrocampo ci ha aiutato e purtroppo è un'unica incertezza. Abbiamo subito il gol. Sì, ora c'è la sosta per la finale di Coppa Italia regionale, non può che essere un bene dopo due K.O. di fila. Sì, adesso sfruttiamo questa sosta, ricarichiamo un po' le batterie e poi ci rimettiamo sotto per cercare di fare questi punti di salvezza che ci servono assolutamente. Grazie. Grazie.